Il Comune di Cagliari ha previsto interventi di rilievo nella periferia cittadina, oggi in forte degrado. Ce ne parla Maurizio Ciotola. Abbiamo fatto un piccolo giro tra i quartieri di Santa Vendraccia e San Michele e Smirionis. I cosiddetti cadaveri, ovvero quegli edifici abbandonati o mai ultimati, abbondano, per non parlare di quelli dell'edilizia popolare che solo in alcuni casi mantengono una loro dignità, a cui il rispetto di chi li abita è fondamentale. Poi nel girare intorno a Piazza Medaglia Miracolosa, che non sembra essere così prodigiosa visto il degrado in cui versa, abbiamo incontrato un mostro, un edificio in cemento armato dalle grandi dimensioni, immerso in un territorio abbandonato dove l'erba rigogliosa lo cinge da ogni lato. Via Mandrolisai, angolo via Campeda, la piscina mai ultimata, murata per impedire che divenga un luogo di azione delinquenziale e soprattutto utile per lo spaccio di droga, come è stato nei primi tempi della sua realizzazione mai ultimata. Un edificio di cui non abbiamo i termini dei costi iniziali e successivi, anche se si è parlato di oltre 2 milioni e mezzo spese senza aver mai portato a termine l'opera iniziata nel 2004. Il recupero delle perifiche urbane faceva parte del megaprogetto nazionale cui l'architetto e senatore a vita Renzo Piano, poco meno di dieci anni fa, si impegnò coinvolgendo tecnici e amministrazioni. Ma in questo paese, dopo l'entusiasmo iniziale, l'annuncio mediatico, i glori ecclesiali, i cui politici e seguaci sono più che abituati, insieme a un'apprenditoria che ha il controllo degli incentivi statali, tutto è rimasto com'era, in molti casi addirittura peggiorato. A noi sfugge, come le persone attente all'ambiente, per altri versi ritenuto intoccabile, siano cieche di fronte ai veri e propri inferni edilizzi e strutturali, di cui le amministrazioni e i palazzinari sono responsabili. In ultimo, speriamo che dopo vent'anni l'agognato centro polisportivo di Via Campeda apra al pubblico per offrire ciò che a una periferia non più tale come San Michele per tanti anni è stato negato.